ma senso di un tappo ma sei sicuro? si sono sicuro un pucuc mi serve il costato non mi rovino a meno vicino non mi rovino a meno vicino se lo vede la parente vi metto la partita ti compra un iPhone 9 Scusi. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Grazie a tutti Grazie 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 Grazie.